A Sondrio 75 coppie hanno raggiunto i 50 anni di matrimonio, 28 le nozze di diamante. La festa in loro onore si è svolta nella sala conferenza di confartigianato alla presenza del sindaco Marco Scaramellini, della giunta comunale e dell'arciprete Don Cristian Bricola. Le coppie inossidabili della nostra comunità che sono sicuramente un bel esempio, una testimonianza dei valori positivi della famiglia, dello stare insieme, della solidarietà. Quanti anni di matrimonio? 50. Quando vi siete conosciuti? Dove? 50, 50 anni. Come vi siete conosciuti? Abbiamo lavorato nello stesso ambiente, sul lavoro. Il segreto è di volersi bene, tante volte non pensare a qualche screzzo e lasciare passare le cose dopo. Che giorno era il giorno delle nozze? Il 16 di agosto del 69, naturalmente. E il segreto per restare 50 anni assieme qual è? Piegare sempre e fare la pace, naturalmente. Abbiamo fatto 50 anni di amore, in più tutto il resto. È una cosa eccezionale. Mi sto preparando per l'altro cinquantesimo che parte da domani mattina. Qual è il segreto per stare bene insieme? Tanta pazienza. Tanta pazienza ci vuole. Andare avanti. Abbiamo già avuto la fortuna di andare alla Santa Messa col Papa, nel periodo di aprile, quando abbiamo fatto il cinquantesimo. E quindi da sera siamo qui in comune e poi andremo in parrocchia alla festa della famiglia. Come vi siete conosciuti? È una cena di laurea. Servivo la macchina, mi chiedo se per fuori potevo andare a portare un po' di gente a Triangia. E mi sono trovato lei sulla macchina. Era lì, è cominciato. Sono cinquante anni di matrimonio, spero, ho vissuti bene con un impegno condiviso che ci ha aiutato a tenere la relazione e a farla crescere. Dove vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti a scuola e poi lui venì a trovarmi a Piateda, in bicicletta, eravamo ancora ragazzi. È stato bello. Oggi porto il suo anello a 18 anni. Quanti anni di matrimonio? Cinquanta, cinquanta. Gocchi è anche una poesia, si vuole sentire, è che è una passeggiata romantica di anni 60. L'ha conquistata con una poesia? Anche, sì. Tanti anni fa. La prima passeggiata, insieme alla mia bella, lo faccio dentro in comune, sotto la passerella. Attraverso il salme maverso il buon contese, l'estate segnal d'estino del Davide Raspelli. Grazie. Grazie.